Il libro di cui vi parlo oggi ha richiesto ovviamente una lunga preparazione, come subito dirò, però non potrebbe cadere nel momento più opportuno la sua pubblicazione perché viviamo in un momento in cui la politica si dimostra molto al suo livello più basso di elaborazione, di idee, di comportamenti, di memoria, di tecniche e dunque questo libro che ripercorre il pensiero di Gramsci, Gramsci e la scuola, Gramsci e la cultura, conoscere e vivere cade proprio a fagiolo è il caso di dire, lo hanno composto spulciando in tutta la copiosa produzione gramsciana un professore Giuseppe Benedetti e una giornalista che si occupa di scuola, Donatella Coccoli. Che cosa viene fuori? Viene fuori il ritratto di un uomo incarcerato e non ci dimentichiamo mai che sono cose scritte quasi un secolo fa, di un uomo che ha avuto come costante riferimento che la politica e la cultura dovessero andare insieme nel senso che la cultura e conoscenza e la politica abbinata alla cultura diventa anch'essa un processo che incide sulla realtà ma incide anche sulla conoscenza e Gramsci per esempio scrive la cultura è presa di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita i propri doveri. Qua c'è una parola sottolineata che ovviamente è un po' caduta in disuso. La cultura come la intende Gramsci rende consapevoli dei propri diritti e doveri e si distingue dalla riduzione per il fatto che non viene usata contro gli altri essendo strumento e fine del progresso sociale. Io non posso citare le tante cose che avevo preparato perché il tempo maledizione non me lo consente però vorrei almeno ricordare qual è la sua idea dell'insegnamento e degli insegnanti. Il docente dovrebbe garantire con il suo lavoro il legame tra istruzione ed educazione dove per istruzione si intende l'acquisizione di nozioni e per educazione la costruzione di un uomo, di un essere umano nel senso umanistico del termine. Un grande insegnamento che ci viene da quasi un secolo fa.